Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Apriamo con la cronaca, parliamo di una rapina avvenuta questa mattina nel negozio di scarpe Footlooker a Treviso. I banditi sono entrati alle 11 nell'attività, hanno aggredito, picchiato e minacciato i dipendenti e si sono dileguati per le strade del centro. Sono stati attimi concitati nei quali le forze dell'ordine arrivate tempestivamente sul posto hanno arrestato i rapinatori. Sul posto, oltre alla polizia, è intervenuto anche il 118 per soccorrere due dipendenti che erano stati picchiati. Obiettivo dei rapinatori, pare le scarpe. Adesso andiamo a Belluno dove questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Tiziano Vecellio. Un'automobile finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto ferito insieme a un bambino. Alle 8 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiziano Vecellio a Belluno per un'auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente rimasto ferito insieme ad un bambino. I pompieri arrivati dalla sede centrale hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente rimasto incastrato, preso in cura dei sanitari insieme al minore e trasferiti entrambi in ambulanza al pronto soccorso. Le operazioni di soccorso di vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Tutto nel mondo dell'imprenditoria veneta, nel fine settimana è morto Giordano Riello, aveva 97 anni, patrona dello storico Marchio e definito il padre dei condizionatori. Viveva in provincia di Verona. Alla domanda se uno nasce imprenditore o lo diventa, aveva risposto, mi è servito molto essere nato in una famiglia di imprenditori dove il lavoro era una costante persino a tavola, così come sono stato fortunato ad avere dei bravi maestri. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio in sua memoria in queste ultime 24 ore. Emergenza a Treviso e provincia dove sono in corso le ricerche di una donna di 76 anni che si è allontanata da casa senza più farne rientro. La signora soffre di problemi di memoria e sono ore di grande apprensione per la famiglia. La donna si sarebbe allontanata da Sernaglia della battaglia. E' stato attivato il piano predisposto per questi casi e tutte le forze di soccorso in campo sono coordinate dalla prefettura di Treviso. E adesso andiamo a Preganziol dove in questo fine settimana si è sviluppato un incendio, un incendio a quanto pare potrebbe anche essere doloso, che ha coinvolto un market molto grosso. Vediamo il servizio, cosa dice? La scorsa notte i Vigili del Fuoco hanno operato in via Europa a Preganziol in provincia di Treviso per l'incendio di un edificio commerciale di vaste proporzioni. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Treviso, Castelfranco, Mestre e Asolo con tre autopompe, quattro autobotti, due autoscale, un carro aria e trenta operatori, coadiuvati dal capo servizio e il funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle altre strutture commerciali attigue. L'incendio ha coinvolto un market di abbigliamento, casalinghi e piccoli elettrodomestici e diverse altre attività presenti nello stesso stabile. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento di tutti i focolai, residui e la bonifica dell'incendio, sono ora al vaglio dei tecnici, dei Vigili del Fuoco, le cause che hanno portato all'innesco del rogo. Altra sera in centro a Montebelluna un gruppo di giovani ha creato il caos con una serie di atti vandalici e violenze che hanno spaventato i residenti oltre ad aver lasciato una numerosa scia di danni agli arredi urbani. I giovani sono stati poi protagonisti di una maxi rissa sul posto i carabinieri. Gli abitanti chiedono interventi urgenti all'amministrazione comunale per garantire la sicurezza. Domani pomeriggio in provincia di Treviso si svolgeranno i funerali di Lino e Rosanna, i coniugi uccisi dal fratello di lui. Un duplice omicidio che ha sconvolto il territorio. Delitto avvenuto il 3 maggio. Le eseque si terranno alle 15.30 di domani. Sabato sera, rider in sciopero a Vicenza. Stiamo parlando di chi esegue le consegne a domicilio del cibo. Si sono trovati, i giovani hanno manifestato nel cuore della città per chiedere un piccolo aumento in ciò che percepiscono da ogni consegna. Infatti il loro rientro è di 3,75 euro a consegna e chiedono 25 centesimi in più per arrivare a 4 euro. Paura l'altra notte in un condominio di Via Palestro a Padova. Verso le 4, 4 studenti che vivono in un appartamento sono stati svegliati per aver sentito il rumore delle fiamme. È stata una vera fortuna che si siano svegliati perché era scoppiato un incendio proprio nel loro appartamento. Sono stati momenti di paura ma fortunatamente sono riusciti tutti e quattro a mettersi in salvo. Il rogo è stato spento dai pompieri. E spesso vi parliamo anche di soccorsi nei confronti degli animali che in varie circostanze rimangono coinvolti in incidenti. Andiamo a Villanova del Ghebbo dove è stato salvato un capriolo che era finito nel fiume a Digetto. Vediamo cosa ci racconta il prossimo servizio. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo nei pressi di Via Valdentro per il recupero di un capriolo in difficoltà nel fiume a Digetto. L'animale ormai esausto, impossibilitato a risalire l'argine è stato tratto in salvo da una squadra dei pompieri di Rovigo con l'ausilio di un gommone. Portato a terra è stato assistito dai vigili del fuoco e da un veterinario fatto intervenire sul posto. Il capriolo ha in breve tempo recuperato le forze ed è stato liberato in una zona verde. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. E adesso parliamo della giornata di grande festa nonostante il tempo incerto della Pink Run che si è svolta in Prato della Valle a Padova rappresenta anche il comune settore servizi sportivi con un progetto molto importante. In occasione di questo evento, grazie alla collaborazione degli organizzatori, è stato lanciato un flash mob che ha coinvolto le 5.000 circa partecipanti prima della partenza per sensibilizzare sul tema delle molestie verbali di cui possono essere oggetto proprio le donne che praticano sport individuali al di fuori delle strutture sportive proprio come avviene per la corsa. Durante la giornata è stato inoltre distribuito materiale informativo su questo progetto. E ancora a Padova in primo piano questa volta andiamo alla fiera che è stata protagonista durante questo fine settimana. C'era Emanuele Compagno. Fiera campionaria di Padova la manifestazione è cominciata sabato 13 maggio è continuata domenica 14 maggio e anche lunedì 15 per poi riprendere venerdì sabato e domenica prossima. Tante le novità che si possono trovare qui a Padova dai prodotti tipici alle automobili ma anche all'arredo per la casa o ai prodotti per la bellezza. Noi siamo venuti qui per Telecittà sabato è stato il momento delle selezioni di Miss Italia mentre domenica 14 le selezioni di Mister Italia. Ancora tanta festa qui ancora tante occasioni di incontro di fare acquisti e anche il prossimo weekend la festa continuerà appunto fino a domenica. Decine di espositori nei quattro padiglioni aperti nella fiera di Padova dallo shopping al tempo libero dalle auto alle idee per abitare ma ancora le attività in famiglia e lo spazio dedicato agli animali nell'area esterna ancora il cantiere dei sapori ma uno spazio comune di enti, istituzioni ed associazioni di categoria del territorio padavino oltre ad associazioni di volontariato e di promozione sociale si sono dati appuntamento allo sted condiviso all'interno del padiglione 8 che funge da collettore del sistema Padova. Ma poi ancora le forze dell'ordine che incontrano i cittadini un'opportunità unica per scoprire da vicino anche per i più piccoli il mestiere di alcune fra le figure impegnate nel fronte della tutela della sicurezza del territorio avvicinando le forze dell'ordine ai cittadini nel padiglione 4 sono presenti quest'anno la polizia, i carabinieri, l'esercito e la guardia di finanza. Ma la fiera di Padova significa anche eventi sabato 13 maggio si è svolto l'atteso appuntamento con Miss Ascom Campionaria 2023 il tradizionale evento che si inserisce all'interno delle selezioni ufficiali di Miss Italia ma domenica 14 maggio è tornata per la seconda volta in Campionaria dopo il successo dell'edizione 2022 l'appuntamento con Mr. Italia nel palco esterno i concorrenti si sono contesi la fascia di Mr. Ascom Padova ma presso lo spazio civico 78 ogni giorno verrà proposto un talk a tema in cui il dialogo fra gli ospiti con taglio leggero si intreccerà alla musica proposta da talenti padovani Grazie Emanuele Compagno e adesso noi parliamo di clima perché dalla mezzanotte di oggi per 24 ore sarà di nuovo una situazione da tenere sotto controllo a livello climatico nella giornata di domani infatti sono previste condizioni di tempo a tratti perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio locale temporale i fenomeni interesseranno diffusamente il territorio regionale con quantitativi più consistenti sulle zone centro-meridionali del Veneto rinforzo dei venti da nord-est su costa e pianura specie sui settori centro-meridionali dove potranno anche essere forti dunque come vi abbiamo detto è stato decretato lo stato di attenzione per 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi è tutto per questa edizione vi ringrazio per la vostra presenza e vi auguro un buon proseguimento arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti